ciao amici amici sono lusser e benvenuti in questoissimo video oggi siamo in questo video su un nuovo gioco che chiamiamo Crash Bandicoot underrun e questo gioco voglio passare questo nuovo gioco sul canale che ho già visto questo gioco sul canale da mister creeper tranquillo se stai vedendo questo video non sto copiando la testa di Crash Bandicoot underrun ma ho visto questo gioco e mi è piaciuto molto e quindi lo vorrei registrare anche io sul mio canale youtube quindi noi ci vediamo in chiacchiere vediamo un po come questo Crash Bandicoot underrun andiamo Crash Bandicoot underrun e questo gioco è un'altra dimensione mentre cerco le macchine dimensione di fare attenzione al fattore lungo e alla certa danno non sta a fare la coppia andiamo Crash Bandicoot underrun e si corre buh quasi si vede lì mangiamo le miele che fanno bene alla salute avendo se non si riesco a fare la coppia e si fanno bene alla volta abbiamo fatto riposare il ptaccio non si prese non si parla di calentare mamma nostra fatemi sapere se ci vuole una serie fatemelo sapere distruggiamo la muralla inglese non ci fermerà mai non ci fermerà mai non ci fermerà mai non ci fermerà mai la muralla inglese non è riuscita a manchi ieri sera contro l'italia saltiamo il calcio in sé faccio morire il disintossico un uccido se lui sarà lui a uccidere lui dai che sto ma dove pensi di andare? su del tetto del cavolo prendi questo tornati a casa tua e ti avevo detto che ci avevo lanciato più grande brabà questo è un diamante mamma mia più raro dei diamanti ci manca la gemma del pano e una gemma c'è nel potere di tutti ottenuto la gemma del potere le droni formiga neopostex imparerà non sottoludarci non aggiungite la spot e torna nostra base torniamo a casa 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 niente in casa ok ok prima 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 andiamo 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 a questo e andiamo 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 capito tanto Sì, 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 sì. 49, 50 ehi cazzo, attacchiamo la porta attacchiamola ehi cazzo, attacchiamo la porta ehi cazzo, attacchiamo la porta si dominiare anche i granchi forza check point che fate su o sei tirato, o meglio di meggio di tiraggio di sera ricordi che sei meggio di tiraggio di tiraggio di sera vabbè noi che torniamo alla base direi già di concludere già questo video che sembra già molto lungo a quanto pare quando vedete i video ah e purtroppo perché Gesù non è quindi vedete il busto l'ho capito poco non c'è di scattare capito